registrazione video full hd a 60 fotogrammi al secondo con la dual cam di honor 9 ho deciso di realizzare uno dei video in serata per vedere come si comporta la videocamera anche perché la videocamera se lo può anche permettere naturalmente c'è molto molto rumore come si va a zoomare un po arriviamo al massimo del 6x in questo caso come vedete molto molto rumore molto rumore digitale ma manca luce ovviamente normale registrazione video full hd a 60 fotogrammi per secondo con videocamera dual cam di honor 9 la luna è pixelata purtroppo meglio guardarla così full hd 60 fotogrammi al secondo